per arrivare alle Camere. Il risultato delle europee influenzerà secondo lei le forze in campo, anche le politiche del governo, ma anche la durata della legislatura? È prevedibile naturalmente, sono elezioni europee, ma su queste elezioni valuteremo anche la tenuta della maggioranza. Io però sono molto fiducioso perché il vero sconto sarà tra europeisti e anti-europeisti. Le forze europeiste, che sono scelta civica, scelta europea e gli alleati della maggioranza, dicono la verità agli italiani, ovvero che fuori dall'euro e fuori dall'Europa non ci sarebbe nessun futuro. per gli italiani, come invece sostengono Grillo, la stessa Forza Italia, la Lega, che dicendo il falso affermano che l'Italia dovrebbe chiudere le frontiere, scatenare guerra ai nostri vicini. Non è questa la nostra strategia, la strategia che serve al Paese, ma è quella di fare riforme più coraggiose di altri paesi europei per essere più forti in Europa.